Questo è il protagonista, infatti avete visto, ho preso The Sea Beast, but it's only red Red, red, rosso È il protagonista Sette minuti No, 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 vediamo le prime scene Adesso qui non si vede benissimo Quindi in questo mostro c'è solo sette minuti del film Sì, se questo mi fa una domanda Che in effetti Quest'oggi vi ho chiesto di portare Una scena che vi faceva Particolarmente ribrezzo In senso di schifo, Fede Allora io vi ho portato una scelta come sempre Perché sono democratico Quindi la prima scena è sicuramente tratta Da un film che non avete visto Un film che per me Nella più totale mediocrità, molto recente Riguarda la sua creatura Principale È una sorta di schifo Nel senso di ribrezzo Nel senso di un design Povero, brutto E di un anonimo Imbarazzante Ok, quindi è un ribrezzo Nel senso che non riesco a vederlo Da quanto è brutto In senso di bellezza In senso di estetica In senso di punto di riferimento visivo Ok, Wonka La seconda è un classicone L'abbiamo visto tutti È uno dei miei film di genere preferiti in assoluto È un caltone Contiene un mostro Che invece mi fa schifo In senso viscido E quindi magari più in linea Con quello che era la richiesta Beh, quasi mi riguarderei tutte due Sì, anche perché il mio manca No, no Il tuo manca però lo devi trovare Eh no, aspetta Aspetta Perché il mio manca Perché in realtà Io non mi schifo facilmente Soprattutto nei film Anche No, no È vero È che non sono nemmeno riuscito A coniugarlo tanto nel Ah, mi fa ribrezzo questa persona Cioè, avrei messo Che ne so The Wolf of Wall Street Che cazzo ne so O anzi, no Ribrezzo nei confronti delle persone All'interno di questo film La prima cosa che mi è venuta in mente È Requiem for a Dream Però ho detto Lasciamo stare questa roba qua Perché in realtà L'unica cosa che mi fa veramente senso Sono i capelli Io avrei dovuto mettere tipo Air Cake Di Pink Guy Che schifo E queste robe qua su YouTube Perché nei film comunque poi alla fine riesco a sopportare abbastanza bene tutto Cioè, no The Grudge Eh, però capito Non mi dà fastidio Cioè, ci sono alcune cose che mi fanno senso Ma proprio il ribrezzo, ribrezzo Che non riesco a guardare Non mi succede mai Eh, ma nemmeno a me Non era quello il senso Il senso era che ti fa un po' venire il brividino Se mi immagini in quella situazione lì Che schifo Dai, ora me ne è venuta una in mente Che fa schifo La possiamo guardare Torniamo Intanto su Fede Dobbiamo decidere fra Wonka O la cosa La cosa Esattamente, sì Beh, io partirei da Wonka Avete cannato entrambi i film Ah, cazzo Ma non è vero La cosa, cazzo Cioè, hai fatto la descrizione Un cult che abbiamo visto, però Sì, sì, sì Ah, sono interessato Vabbè, iniziamo da Wonka, però Iniziamo da Wonka Che in realtà è il The Sea Beast Un film prodotto da Netflix, credo Sì, sì, sì Ma l'altro ha avuto anche un buon successo Che ha avuto un buon successo Tutti, no? Che sorpresa questo film Sui pirati, no? Cioè, in mezzo Sì, è una roba un po' sui pirati Questo è chiaramente un filone Dreamworks Tarocco, proprio Questi sono Avete presente Quando fabbricavano le carte di Pokémon tarocche Questa è Questo è Dragon Trainer tarocco Eh, boh, Dragon Trainer Non voglio offendere nessuno, eh Però A me sto micino che vola Non mi ha mai detto un cazzo Quindi, figurati se me lo tarocchizzi Questo è il protagonista Infatti avete visto Ho preso The Sea Beast But It's Only Red Red È il protagonista Red Rosso È il protagonista Giusto? Diamo un nome Rosso Hanno scelto un nome Che dasse carattere al personaggio Vediamo Ve lo faccio vedere Allora, sette minuti No, no, no Vediamo le prime scene Adesso qui non si vede benissimo Fatto di Pongo Adesso quando c'è la scena di giorno Ma questo è il protagonista? Questo è il protagonista Ok Cioè, è un po' il Dragon Trainer Nel senso che il protagonista è un umano E poi c'è la sua controparte È tipo Moby Dick È tipo il gigante di ferro Ok Ok Quindi in questo mostro c'è solo sette minuti del film Sì, se questo mi fa una domanda Che in effetti Sembra fatto con l'intelligenza artificiale Cosa che non escludo a questo punto Effettivamente è proprio brutto Ma non è a livello di design Adesso vedrai appena vedi la scena di giorno Guarda Mamma mia Eh sì, è plastilina, dai Non è riconducibile Vabbè, l'animazione è ben fatta Cioè, questo è il punto L'animazione sì Il design è proprio È il design proprio che è povero Sì, sì E' antice Ma questa roba E' tempo Sono solo reaction shot Cioè, se non mi fa ribrezzo questa cosa qui Non so cosa No, dai Non si può vedere un film del genere Cioè, non c'è niente di interessante in questo mostro Niente Cioè, almeno guardate il granchio nemico È molto più interessante il granchio nemico Il granchio nemico sembra Uno di quelli di Monster Hunter Vabbè, per me Pure il sound design è molto bello No, no, è fatto bene Anche l'acqua è fatta molto bene Va bene, si può Sì, sì, sì Vi ha fatto ribrezzo un po' No Nemmeno troppo Cioè, nel senso È pongo e tutto quanto Però Non è proprio disgustoso Invece questo qua immagino che sia un horror A questo punto No, è un monster movie Da uno dei miei autori preferiti di sempre Ed è The Host Il mostro è di come viene fatto muovere nello spazio Di come la camera si muove E di come il protagonista poi reagisce alla cosa Come i personaggi reagiscono alla cosa È una delle scene più belle Che il buon Bong abbia secondo me mai fatto Quindi Qui è come viene introdotto il mostro Quindi Arriva a dieci minuti dall'inizio del film È dieci minuti e un quarto d'ora E di come Come on, come on, come on Come on, come on Molto bella, ma non capisco Cosa che ti crea il ribrezzo Beh, io sono d'accordo con Gian Cioè, è bellissima Anche Questo finale, comunque, top Ti rendi conto che è un Mostro viscido, cioè nel senso È un mostro che È un mostro che io posso riconoscere nella realtà Ingigantito, nella trama È creato dall'inquinamento Dalle scorie Che vengono gettate nel fiume Perché i design di Del Toro sono fighi rispetto agli altri Non perché lui sia bravo semplicemente a disegnare Ma perché il suo design è già pensato per una messa in scena Qui la messa in scena è così caotica Che veramente ti spaventa Perché c'è un'idea di imprevedibilità Di questo mostro Che secondo me è intrinseca nella natura del mostro Per come è fatto e come si muove Ma è giustissimo Però non mi fa il ribrezzo Ah no, si vede ciucciare il... Come se ti pucciasse Ti succhiasse Mi sono persa, cos'è questa ciucciata? È quando si va dietro i camion Che c'è il tizio che ha ancora le gambe fuori del tizio Una roba più spaventosa di questa sarebbe tipo uno scarafaggio gigante per me Deve essere imprevedibile Lo scarafaggio perché fa paura? Non perché la forma fa paura Ma perché quando lo provi a schiacciare scappa velocissimo E si va adattato per tutto Scala Secondo me quel tipo di idea di mostro Che rotola, che scappa, che sale Che ti è sempre dietro nonostante tu cambi strada A me fa troppa paura Mi ha incuriosito un sacco questa scena Voglio assolutamente vederlo Figo, cioè in senso di per sé è invecchiato malissimo Il mostro e l'alieno Però è talmente costruita bene la scena Che ti tiene incollato Nonostante solitamente questi mostroni qua Quando invecchiano male comunque ti distacchi un po' Decisamente Invece l'ho pensato e ho detto Ma sai che in realtà è contesto Quello che dicevi te, no La caoticità Quando poi a un certo punto lui prende la mano dell'altra bambina Madonna, anche la musica in sale è detto Toton, toton E tu lo vedi da lontano Cioè non c'è l'idea che arrivi all'improvviso Il mostro ti sta inseguendo A rallenti tra l'altro Madonna, bellissimo Per me la cosa che mi fa più paura Comunque e mi piace di più È quanto si avvicino Cioè ogni volta Sì è vero Quando entra dentro C'è la gente ancora lì che spinge Non è mai una situazione Sappiamo che per ora il nostro personaggio È fuori dal pericolo Cioè cazzo questo mostro è talmente random È talmente flailing Cioè si muove completamente Così a caso che c'è sempre l'ansia Che si possa avvicinare Esatto Perché non sai bene cosa star facendo È proprio È un incubo per me Cioè l'idea che io se scappo Vengo inseguito Ma non nel senso che insegue me Ma che è caotico È proprio come uno scarafaggio di merda Ma poi c'è anche l'idea che appunto Tu in una situazione del genere Comunque non è che puoi abbandonare Se vedi delle persone dentro No infatti questa è anche una delle cose più belle C'è lui che va insieme all'altro tizio Ad aprire Questo posto Dove Sì che poi è ridicolo Perché ovviamente Non può Infatti non viene aperto Diciamo Da loro Semplicemente c'è la calca Però è figo che ci sono loro Che vogliono salvare le altre persone E comunque c'è un aiuto Che si sta dando Tutt'è questa gente Poi questo tizio è americano Ma poi niente Cioè questo è terrorizzante Che lo vedi sempre sullo sfondo Che viene verso di te Non ce la faccio Per me mi fa troppo paura sta roba Ho capito quello che intendo Mi fa più paura Non mi fa lo stesso effetto Ma perché probabilmente Sono completamente fuori dal film Cioè dovrei vederlo Sì certo In effetti Secondo me Il problema delle scene decontestualizzate E dei design decontestualizzati È questo Se io vedo Alien Non mi fa paura Se lo vedo in PNG Da Google immagini Quando vedo film Alien Cazzi Un altro discorso Cioè a me spaventa Quasi di più Ecco questo Lui è terrorizzato Perché la tua mente Sta già immaginando Quello che sta accadendo È il peggior incubo Ma infatti tu immagini Che si mangi la figlia In realtà Il mostro la rapisce La prende La rapisce Infatti Se la trascina Diciamo Con la coda Sott'acqua Rimane tanto questo Perché il mostro in sé Credo sia anche volutamente Un mostro generico Ne abbiamo già parlato Di questa cosa Però È un bel design Sì È un design migliore Non è un design Di merda Dal 2010 Esatto È un design Che comunque Ti resta in testa Sì Per quanto sia comunque Un insieme di cose O comunque Anche questo Sul grigione Però Sembra un pesce Sembra un essere Una rana Amfibio Esatto Sì Assolutamente Funziona Comunque Ti volevo dire Sai cosa fa Molta più paura Di un mostro Che non sei È sempre a fianco a te È sempre vicino È un mostro Che sta dentro di te Perché ci siamo preparati Questa cosa Non è bene Ci siamo preparati Questa cosa Perché cosa Ci devi far vedere Gianna Allora Io Simo lo sa bene Ho una grandissima fobia Verso i parassiti I vermi Soprattutto I vermi E Verme solitario Tutte queste robe qua Mi Cioè Ti terrorizza Muoio proprio Il fatto di avere Una cosa Che vive dentro di te Soprattutto il viscido Del verme Che si muove All'interno del tuo intestino Una roba che proprio Non riesco A sopportare Comunque I vermi di per sé Mi fanno Schifo Assai In questo film C'è una scena Che quando L'avevo vista Avevo detto Cazzo Essere in quella situazione Cioè Mi sarei paralizzato C'è di tutto In questa scena Ci sono Qualsiasi tipo Di insetto Che possa fare paura Ma quello Per me È il peggio Probabilmente Magari a te Fa paura Qualcos'altro Ci fa schifo Qualcos'altro Ma a me Non tanto paura Lo schifo Proprio Sono rivolte a questo Il famoso ribrezzo Ed è una scena Oh Cazzo Minchia Cos'hai tirato Il King Kong Di Peter Jackson Minchia Minchia Cos'hai tirato fuori Il terrore Più di 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 Godzilla Di Di dinosauri Questa è Che poi comunque Questi vermi Qui Sono Cioè Sono Sono reali Sono tipo Sanguisughe Mamma mia Questo No questo è spaventoso Questo è terrificante Veramente Ecco io Gian Minchia il vermino Che taglio così Con Col coltellino Zero problemi Quello croccante Inizia a diventare Problematico A me Questa roba qua Del verme Che inizia ad impossessarti Cioè che ti pre Mamma No dai Vuoi mettere questi Che ti staccano gli occhi Niente No no Quelli lì Va bene Cioè potrei essere circondato E faccio come Jack Black Così No 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 Per me il croccantino è Problematico Tu ci difendi dal croccantino Io e Simo facciamo Minchia Un re di Questo Questo è un robo gigante La chela Non me ne frega niente La chela Chi se ne frega Un granchio Esatto Non mi dice niente Ma cazzo Minchia mi manca Peter Jackson Bellissima sta scena Questa roba qua Ecco questo Quando ti Gli entra nella testa Una cosa Mi immaginavo Quando era al cinema Che l'avevo visto Mi immaginavo l'odore Lo schifo Di Mamma Tra l'altro è bello anche Questa Questa colonna sonora Molto sottotono Sì è un tappeto Molto distante Sembra un coro Distante Eh sì Ma per me aiuta Un sacco a vendere La scena Io non l'ho mai visto Il King Kong Di Peter Jackson Ho sempre Visto Ah ma quindi Non l'hai mai visto Sta scena No È la prima volta Eh questa è la parte Più Più debole Del film Se ci pensate Ha molto in comune Con il quarto Indiana Jones Il quinto dici Il quarto Cioè con Quest'idea di Azione Che non si poteva fare prima Perché non c'erano Questi ambienti impossibili Questi mostri impossibili Ah certo Quindi c'è un'integrazione Poco riuscita Dell'uomo Però c'è da dire Tutto il pezzo Prima con gli insettoni In realtà Funziona benissimo Anzi cioè Se Spielberg avesse avuto Quella tecnologia L'avrebbe messa subito In uno dei suoi film No assolutamente Funziona bene Però poi Vedersi quello Con l'aliana che spara Sì 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 Quello non funziona Probabilmente Me ne sono anche Cioè veramente Ho fatto un incubo Sognandomi questi Avermi Vabbè Faccio vedere qualcosa Che magari può Schifare un po' tutti A me piace Cioè non è che mi piace Non ti schifa Ma ti piace Ma non mi schifo Ho pensato a una delle cose Magari un pochino più disgustose Che ho visto nei film Proprio da un punto di vista Anche Di idea Proprio Non è nemmeno la realizzazione Perché stiamo parlando Di un film Se non sbaglio Degli anni 80 È Society di Yusna Brian se non sbaglio Yusna Film di genere Di questi Di questo grande Del cinema di serie B Insieme a Stuart Gordon Ovvero il regista E Reanimator Erano due grandi Che si divertivano A fare film horror Film di serie B Film di fantascienza Con pochissimo budget E con grande amore Per la tecnica Cinematografica E per la tecnica Del trucco Cioè erano proprio Interessatissimi A quell'aspetto L'hanno inventato Di tutto e di più Infatti Reanimator Forse un po' più Di Society Che è un pochino più Diciamo cervellotico Reanimator è molto più Un film di cult Amato in tutto il mondo Diciamo che La cosa più disgustosa Di questa scena È il disgusto Provato nel tema Che vuole trattare Ora è molto fumoso Perché l'ho visto Veramente tanto tempo fa Lui è tipo Un ragazzino Di questa famiglia Altolocata Che sta per diventare Adulto Sta per diventare Maturo E deve entrare In società Cioè devono fare Questa grande Entrata in società Solo che lui Ora che sta diventando Grande comincia a sentire Che c'è della stranezza Dentro casa Tutti gli fanno Gaslighting Dicendogli No ma non sta succedendo Niente Anzi Penso ci siano scene Tipo Ah guarda Lupo al lupo No Ah guarda È successo questa cosa Invece poi non c'è niente Si scopre Che lui in realtà È stato adottato Da questa famiglia Altolocata Quindi lui non fa parte Di quel mondo Non fa parte Di quella borghesia E deve entrare in società L'entrata in società Avviene con La più assurda È Fuori di testa Orgia Slash Banchetto Cannibale Con Questi Appunto Borghesi Grassi Che cominciano a tipo Unirsi fra di loro A diventare Una massa unica Quasi come Si divorassero A vicenda E si fondono E nel mentre mangiano Un altro tipo Che era tipo Un suo amico Che non faceva parte Di quella società Il banchetto Diciamo E della festa È terrificante di suo Ma questa scena È ancora più Elevata Diciamo Da quel punto di vista Perché è lui Che incontra La famiglia Che lo ha adottato A parte che è già Cioè Malata Ajut Ha Chi Chi Ha Chi Per Gi Va Allian Che In Di Mi Che 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 Cazzo è pazzesco Bellissimo Effettivamente dovrebbe fare Completamente schifo questa roba È talmente fatta bene, talmente figa Che mi piace tantissimo Le riguarderei È un po' come la cosa La cosa che mi fa veramente senso di tutto questo È che sono bagnati Sono ricoperti di glicerina La testa ai piedi Quella cosa mi fa veramente schifo No ma già è solo Questa partenza con queste mani Al posto delle gambe Bellissimo Sì forse qui non si ha ancora ben idea Poi di che tipo di forma Sì te le immagini Però che sia un No no esatto però poi quando è fatto bene Perché poi quando scende giù Vedi c'è proprio la Vabbè tranne sta faccia Ma anche la faccia Sì sì ma anche la faccia Qui forse si perdono un attimo le coordinate Perché non è ben chiaro che lui sia sdraiato così Anche lei si è tutta zozza Eh sì vedi sono tutti zozzissimi E' schifo Questo è il più zozzo di tutti però Sì sì Lui è proprio La faccia da culo è Bagnatissimo Poi è tiratissimo La pelle intorno Cioè sta proprio cacando Si sta provando ad uscire Sì sì è proprio Minchia tiratissimo In una maniera spaventosa Bene Grazie Simo Alla fine mi arriva sempre l'idea Non era schifo Schifosa Ho capito Quelle di Frede erano schifose Assolutamente no Ecco appunto Cioè E' talmente soggettiva come cosa Che Che La tua La tua In parte Sì Non è che deve essere quella roba Che per forza Ti devi girare Perché non riesci a vederla Lo so Infatti per questo dico Era un po' il brevidino E per questo dico E' estremamente soggettivo Vabbè figo anche la tua Però Cioè veramente Talmente fatta bene Che fa il giro Però la cosa è che appunto Fa schifo la borghesia Questo è il punto fondamentale Del film Sì sì ma Te la accettela Dai Anche solo che questa c'è Questa faccia da culo Che ti parla Che dice hai ragione Hai ragione Sono proprio una faccia da culo Ah 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 Grazie a tutti.